Buongiorno a questo giorno Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa, buongiorno Rossini, oggi è venerdì 17 febbraio, noi non siamo scaramantici assolutamente e quindi diamo il benvenuto a questa nuova giornata, una giornata che si prospetta essere tra l'altro di sole e soprattutto nella costa della regione Marche è una giornata molto positiva quella di oggi, un risveglio bellissimo perché è stato vinto il Super Enalotto e allora oggi tutti i quotidiani nazionali e locali ne parlano di questa super vincita è stato centrato il jackpot più alto di sempre, la vincita con un sistema di 90 quote da 5 euro ciascuna e questi sono i titolari della ricevitoria di Grossetto dove è stata vinta una delle quote da 4 milioni di euro, quindi 90 persone oggi si trovano in tasca 4 milioni di euro e qui vedete quanto ammontava appunto questo 6 dei record a oltre 371 milioni, tra l'altro ecco qui il Super Enalotto e viene ancora raccontato all'interno del resto del Carlino centrato il 6, la vincita vale 371 milioni, è il jackpot più alto di sempre, la schedina d'oro è un sistema proposto dalla Sisal e acquistato da 90 giocatori in Italia ognuno di questi incasserà oltre 4 milioni di euro a testa, l'ultima volta festeggiò un solo fortunato, questa volta per fortuna dico questi tanti milioni si sono distribuiti 90 persone, ma dove sono state vinte queste quote? Allora 9 quote sono state vendute in Friuli Venezia Giulia, 9 in Sicilia, 9 in Calabria e 7, poi ci sono anche in altre regioni, 7 nella regione Marche poi Lombardia, Puglia, Toscana, come vedete sono stati distribuiti anche in modo equo, ma a noi ci interessa sapere nella regione Marche e chi ha vinto queste quote? Allora, vedete qua, nella provincia di Pesaro Urbino nessuno purtroppo, ma ecco anche qui è stato centrato il 6 del 371 milioni con un sistema Sisal, 6 quote da 4 milioni vendute nella regione Marche e allora leggiamo l'articolo non poteva che baciare anche le Marche già premiate due anni fa dal colpaccio da 156 milioni nel Fermano la vincita record che ha sbancato il Super Enalotto sono state vendute infatti nella nostra regione 6 delle 90 quote di un sistema Sisal che ieri sera ha centrato il jackpot del Super Enalotto con un 6 dal valore record di oltre 371 milioni ognuno di loro si aggiudica 4 milioni e poco più di euro secondo quanto ricorda l'agenzia specializzata Agimec allora 5 dei super fortunati marchigiani avevano acquistato la loro quota alla bacheca dei sistemi di Sisal nel negozio Dolce Forno di Monte Cassiano pensate in provincia di Macerata mentre il sesto è un giocatore della ricevitoria Bancolotto di via Elpidiense Sud a Monte Granaro nel Fermano complimenti allora a questi 6 fortunati della regione Marche che si trovano oggi 4 milioni in tasca ecco cosa fareste con 4 milioni voi telespettatori che ci state guardando scrivetecelo perché insomma è veramente sognare ad occhi aperti ma qualcuno invece dovrà iniziare a capire come gestire questi soldi che insomma fanno assolutamente bene ma siamo contenti appunto che siano andate a 90 persone in Italia complimenti torniamo alle notizie della nostra cronaca prima però ci colleghiamo con Fano siamo in piazza 20 settembre vedete ieri è stato bruciato il pupo così come tradizione nel come? martedì è bruciato il pupo ah della prossima settimana allora della prossima no martedì verrà bruciato il pupo e quindi tutto ancora allestito a festa diciamo così c'è il palco ci sono le maschere attaccate ai lampioni perché il carnevale non finisce certo va avanti e qui vediamo appunto un'immagine della piazza di Fano alle 7.24 minuti già piuttosto soleggiata e adesso andiamo al Corriere Adriatico si parla di San Domenico lavori e sfratto l'avvio del cantiere all'ex convento impone di trasferire gli ambulanti del mercato delle erbe un rebus la nuova sede il comune convoca gli operatori Davide Ipaso dice ignorati ancora una volta allora giovedì Grasso Afano è eletto il sindaco il carnevale verso il gran finale e poi si parla anche delle nuove antenne 5G i residenti dei borghi soprattutto quelli un po' più nell'entroterra dicono basta sono davvero troppe a Pesaro si torna a parlare degli appalti pubblici la CNA dice tagliate fuori le piccole imprese e poi la notizia che abbiamo dato anche noi ieri nel nostro telegiornale il vescovo si è dimesso si attende il successore stiamo parlando del vescovo Armando Trasarti che ha compiuto 75 anni e quindi come da regolamento sarà sostituito e poi la prima pagina del resto del Carlino anche qui in apertura si parla delle imprese edili si rischia la strage perché in passe e crediti da super bonus l'allarme del presidente costruzioni CNA senza liquidità è il disastro e poi anche qui si dimette il vescovo di Fano in arrivo in autunno ci sarà il nuovo successore ma la diocesi resta comunque autonoma e qui sono stati immortalati coloro che hanno la propria bancarella alimentare all'interno del mercato delle erbe lavori al San Domenico sfrattati i banchi dal mercato delle erbe ma loro adesso non sanno dove andare e poi Città della Musica un bel riconoscimento che avverrà nel 2025 un bellissimo, grandissimo raduno proprio nella città di Pesaro un raduno UNESCO e poi si inventò una falsa rapina quattro mesi a un bullo di Piazza Redi questa sera c'è un concerto bellissimo a Fano che racconta la storia il mito dei Pink Floyd con The Dark Side of the Moon e poi la febbre delle Final Eight oggi trovate un'intervista sia a Dario Costa che a Franco Arceci che raccontano insomma la gioia la contentezza ma anche un po' l'ansia di vedere come andrà la partita domani sera alle 20.45 le incognite del mattone così intitola il resto del Carlino perché? perché viene fatta un'analisi da Marco Rossi presidente delle costruzioni regionali CNA se a marzo ci sarà lo shock di liquidità pericolo strage di imprese una macchina quella di bonus a partire dal 110% che ha messo in moto non solo l'industria del mattone ma tutta un'intera filiera idraulici, elettricisti settore del mobile via dicendo però sia a fine di marzo quando dovranno essere smaltiti tutti i crediti accumulati nel 2022 e non ci si riuscirà si rischierà una vera e propria strage di imprese per mancanza di liquidità e allora l'ipotesi del governo e qui il presidente della provincia Giuseppe Paolini dice no allo stop dei crediti il primo a saltare dalla poltrona sul possibile stop dello Stato all'acquisto dei crediti delle banche è stato il presidente della provincia Giuseppe Paolini che ha annunciato anche attraverso il Carino di voler acquistare crediti per 2 milioni dalle banche forse non si è capito che la situazione è critica dice il nostro presidente e poi il nodo del commercio al via tante ristrutturazioni di cui ne abbiamo parlato anche noi ieri nel nostro telegiornale ma attenzione perché è vero è benissimo che partono i lavori di ristrutturazione per il San Domenico ma gli ambulanti verranno momentaneamente sfrattati e loro dicono dove possiamo andare e allora qui potete leggere un articolo in cui si vedono si percepiscono un po' i timori di questi ambulanti all'interno del chiosco sono una decina i titolari delle botteghe che entro giugno dovranno trasferirsi in un'altra sede tra le ipotesi Piazzale Carducci o Matteotti loro però protestano non sapevamo nulla e veniamo spostati proprio quando si lavora di più cioè nell'estate con il bel tempo in totale sono rimasti appunto una decina gli ambulanti che tutti i giorni aprono bottega all'interno del chiostro di San Domenico sei sono quelli fissi e poi ci sono i produttori che arrivano dalle campagne cioè i coltivatori diretti e poi si parla anche del mercato del consueto mercato del martedì ma anche quello che avviene la terza domenica del mese a Pesaro San Decenzio il mercato Langue trasferiamo le bancarelle del cibo questa è l'idea è quella di di spostare l'area food che invece è vitale in mezzo agli altri rivenditori anche per diversificare l'attrattiva ma gli ambulanti protestano nessuno vuole lasciare un luogo garantito per un altro dove è un'incognita non sanno se poi ci sarà l'affluenza come quella che sono assolutamente abituati ad avere la pressione degli ambulanti del food è stata tale che la consigliera ad opposizione insieme ai colleghi Andreolli Emanuele Gambini e Redaelli ha depositato un'interpellanza c'è chi ha parlato di sicurezza in via Lamarca parcheggerebbero in quadruplice fila se fosse questo basterebbe aumentare la presenza della municipale invece di arrischiare invece che mettere in pericco insomma delle attività quindi ci sono un po' di situazioni sollevate appunto dalla Marchione di Prima Cepesaro e da altri della minoranza il nodo dell'ambiente alberi tagliati e argini desertificati che strazio che cosa succede questo è lo sdegno dopo la strage dei fusti vicino al parco 25 aprile per realizzare appunto alla ciclopedonale il taglio però è stato autorizzato dal comune ma alcuni residenti insomma sono rimasti un po' attoniti alla vista di tutti questi rami tagliati e anche alberi il taglio degli alberi è stato disposto e autorizzato dal comune di Pesaro per realizzare il tratto di ciclabile all'interno del parco che andrà ad innestarsi sul nuovo ponte ciclopedonale sul foglia la cui posa appunto abbiamo detto proprio ieri avverrà in estate la posa di questo ponte sul foglia c'è poi anche il tema dello scarso coordinamento tra gli uffici i lavori pubblici fanno una cosa l'ambiente un'altra magari non è a conoscenza quindi c'è un po' di ci sono un po' di problemi di comunicazione intanto un grandissimo riconoscimento e per questo dobbiamo ringraziare il vice sindaco Daniele Vimini che ha portato a casa un traguardo grossissimo per la città di Pesaro città creative della musica a Pesaro ci sarà il raduno UNESCO per quattro giorni arriveranno le rappresentanze pensate di 59 località del network Vimini dice gli artisti internazionali racconteranno la scena pesarese nei secoli quindi è veramente un evento che porterà alto il nome di Pesaro in tutto il mondo nel 2025 per quattro giorni la città di Rossini appunto ospiterà queste 59 delegazioni internazionali e che di altrettante capitali creative dell'UNESCO il 30 aprile data in cui ricorre il Jets Day anche qui si produrrà una narrazione per immagine insomma poi avremo modo di raccontarvi quello che accadrà quello che si farà e questo bellissimo interscambio che ci sarà appunto nel 2025 ed ora passiamo alla cronaca è condannato uno dei bulli di Piazza Redi sappiamo che in questa zona questa è una zona molto problematica ci arrivano costantemente delle segnalazioni anche di voi cittadini che abitate in questo quartiere segnalazioni non solo di bulli ma anche di spaccio di droga insomma una situazione un po' problematica quella di Piazza Redi e allora adesso si ripercorre la storia di un evento che è avvenuto qualche tempo fa quattro mesi a un diciottenne di origine sudamericana era con un minorenne accusato di furto e di aver allertato la polizia per una finta rapina lui diciottenne di origine sudamericana era in compagnia del tredicenne che due anni fa aveva denunciato una finta rapina al supermercato dei Piazza Redi per il gusto di filmare i poliziotti in azione non so se ve lo ricordate dopo aver fatto un furto quello vero al distributore di sigarette il minore aveva scampato denuncia e processo grazie all'età ma l'altro diciottenne è finito a processo per furto aggravato e procurato allarme e ieri per questi reati è stato condannato a quattro mesi e venti giorni grave un uomo per un incidente sul lavoro siamo a Talacchio un uomo è rimasto vittima di un serio incidente mentre stava lavorando con i suoi mezzi agricoli secondo una prima ricostruzione dei fatti un agricoltore nella zona di Talacchio alle quattro ore di circa di ieri è rimasto schiacciato da un macchinario agricolo che stava manovrando le sue condizioni sono a parte subito molto grave è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Ancona e andiamo ancora avanti e nella pagina di Fano si parla della notizia riguardante il vescovo Trassarti che lascia ma la diocesi resta autonoma e allora che cosa vuol dire che come stabilito dal diritto canonico il pastore di Fano ha rimesso il mandato perché è arrivato all'età di 75 anni quindi presto verrà nominato il successore sarà proclamato tra settembre e ottobre Armando Trassarti dopo 16 anni che è stato alla guida della diocesi di Fano Fossombrone Cagli e Pergola ieri ha rimesso il mandato nelle mani di Papa Francesco che adesso nel breve tempo individuerà un nuovo vescovo la nuova guida potrebbe anche essere annunciata in occasione della festa del patrono di Fano e poi una notizia di colore che ci racconta un mondo che ha vissuto tante difficoltà durante il Covid ma che poi è ripreso alla grande cioè il mondo dei matrimoni e di tanti operatori che operano in questo settore cresce il numero di matrimoni civili anche il comune si apre al business dai 112 riti celebrati dal sindaco e dai suoi delegati lo scorso anno pensate 89 si sono svolti nella sala Concordia nell'ultimo periodo stiamo rilevando un incremento di turisti stranieri che vuole venire a sposarsi qui quindi veramente cresce il numero di queste celebrazioni nessuna coppia ha scelto di celebrare le proprie nozze nella spiaggia libera di Sassonia davanti all'anfiteatro Rastat l'assessore Sara Cucchiarini dice stiamo cominciando ad inserire il wedding tra le possibilità dei pacchetti e quindi una notizia buona e confortante intanto ci spostiamo anche a Urbino dove qui si parla dei nuovi alloggi universitari l'ora delle decisioni il consiglio comunale è chiamato a prendere posizione su un progetto finanziabile il riutilizzo degli hotel Montefeltro e Piero della Francesca per creare questi alloggi universitari intanto vi ricordiamo che domani in Piazza della Repubblica ci sarà la grande festa di Carnevale a Urbino Urbino si maschera per Carnevale domani alle 15 in Piazza della Repubblica scatterà la festa organizzata dal Comune con presenza del contributo di Radio Studio Più Associazione Le Contrade di Urbino e il Liceo Laurana Baldi e ci sarà anche un summit dedicato all'ospitalità che avrà luogo proprio nella città Ducale si farà a marzo 20 realtà nazionali faranno il punto su tecniche prospettive del settore L'assessore Cioppi lo vedete qui nella foto incontrarsi da noi è in un luogo naturale quindi questo è il Travel Open Day Hospitality si farà il 22 marzo e coinvolgerà tante città italiane ma anche straniere per fare un focus e parlare di turismo nella città appunto di Urbino e poi vi ricordate ieri vi abbiamo dato la notizia di questa donna di Fossombrone che è stata travolta dai minari non a Fossombrone ma ad Alba Adriatica ecco la 44enne forse empronese attraversato mentre arrivava un treno merci morta sul colpo lascia due figli il funerale ci sarà nel pomeriggio esattamente oggi pomeriggio con inizio alle 15 ci saranno i funerali di questa povera donna che è morta in questo tragico incidente da oggi a domenica parte anche il Carnevale di Cagli che è pensato per tutte le età il via è avvenuto ieri pomeriggio col Carnevale dei Bambini per sabato pomeriggio dalle ore 19 in poi avverrà l'inizio della festa degli adulti poi ancora domenica alle 14.30 di nuovo ci sarà la festa dei bambini in piazza Matteotti quindi ecco se volete vivervi anche il Carnevale a Cagli ma se volete rivivere il mito dei Pink Floyd e del loro album più famoso in tutto il mondo uno degli album musicali più famosi in assoluto nel mondo The Dark Side of the Moon questa sera ci sarà uno spettacolo che è creato appunto per far rivivere la storia dei Pink Floyd diretto dal maestro Roberto Molinelli che vedete qui e che salutiamo questa sera alle ore 21 al Teatro della Fortuna The Dark Side of the Moon ispirato all'omonimo fortunatissimo album di Pink Floyd una produzione che vedrà protagonisti l'orchestra sinfonica Rossini D.N.A. Pink Floyd Tribute Band gli attori Giuseppe Esposto e Fabrizio Bartolucci autore dei testi e del concept dello spettacolo e giornalista Claudio Salvi anche lui salutiamo e facciamo i complimenti per questa bella belle opere che mettono in scena veramente bellissime ed ora salutiamo tutti i nostri amici Ornella Daniele Rita poi chi c'è collegato fateci vedere un po' poi c'è Ornella Fiorella Stefania buongiorno Luca Pandolfi buongiorno Fabrizio Aromatico ben ritrovato Roberto Franca Antonio Michele Matteucci Pratelli della CNA Anna Luigi Rita poi basta grazie tutti grazie grazie per scriverci Ornella ci scrive sono tanti mi auguro che sia un operaio che può pagare tutte le bollette e altro speriamo Ornella che questa maxi vincita che è andata a 90 persone sia andata nei posti giusti insomma nelle persone che magari sono più in difficoltà pensate che bello sarebbe se fosse davvero così intanto andiamo al Corriere Adriatico la prima pagina l'abbiamo letta abbiamo letta anche questa questa notizia che sei quote del superenaloto sono state vinte proprio nelle marche e poi anche qui si parla oggi e magari possiamo soffermarci sulla road map dell'ex convento per capire questi lavori al San Decenzio che vedranno sfrattati gli ambulanti un rebus la nuova sede 7 milioni e 600 mila euro di fondi PNRR per il recupero del complesso del San Domenico un complesso molto grande nel centro storico di Pesaro nelle casse del comune è arrivato il 10% del finanziamento entro il 30 luglio ci sarà l'affidamento dei lavori e anche l'apertura del cantiere entro il 30 settembre verrà realizzato almeno il 30% delle opere entro il 31 marzo 2026 certificato di collaudo a fine lavori quindi insomma questi lavori dureranno parecchio tempo e quindi questi ambulanti dovranno cercarsi una situazione una sistemazione che sia loro più consona nel mercato delle erbe ci sono una decina di operatori tra ambulanti e commercianti di prodotti alimentari frutti e verdure eccetera il chiostro dell'ex convento San Domenico risale al 1200 mentre il mercato è documentato dal 1861 il mercato si estende su circa 1300 metri quadri e poi proprio in questo luogo nel San Domenico c'è già un progetto di quello che potrà essere costruito università piazza e uffici nel futuro dell'ex convento il comune ha affidato l'incarico per la verifica dei progetti in progress il campus universitario la piazza un polo per le attività culturali uffici ma anche negozi si delinea il volto del futuro San Domenico nel quartier generale delle nuove opere sono in fase avanzate i progetti di recupero dell'ex convento una operazione finanziata dal PNRR con 7 milioni e 600 mila euro di fondi europei e poi queste nuove antenne l'annuncio di prossime collocazioni di nuove antenne per la linea rete 5G per i borghi però sono troppe il comune apre un regolamento ad hoc animata l'assemblea che si è svolta al circolo Acli con i residenti di Novilara Candelare e Ginestretto che chiedono a gran voce di preservare il paesaggio e poi alcune notizie di oggi che vi segnaliamo tra oggi e domani alcuni appuntamenti il liceo Mamiani parla del caso Giuliana Assange domani alle ore 10 nella Olamagna della sede del campus del liceo Mamiani nell'ambito del progetto le ragioni della pace e poi Rossini conversazioni letterarie musicali insieme a Livi e Russo domani alle ore 17 il conservatorio Rossini darà il via alla prima edizione del progetto conversazioni letterario musicali Poderi e Uguccioni cantastorie della vita tribolata di Pasqualone cantore di una città che non c'è più se siete interessati a questo argomento questa sera alle 19 all'Alexander Museum Palace Hotel ci sarà questo racconto appunto dalle parole di Poderi e Uguccioni e poi vi ricordiamo anche lo spettacolo della piccola ribalta che vuole stupire con The Show Must Go On potrete vederlo domani sabato 18 alle ore 21 oppure domenica 19 alle ore 17 nelle pagine di Urbino del Corriere Adriatico si parla qui anche dei danni che ha provocato la neve l'ultima neve la scorsa neve alla struttura del Palace vedete ancora in che stato riversa questo palazzetto che non è più utilizzabile al momento e allora Viva Urbino e PD sollecitano il ripristino delle attività basket giovani a rischio e quindi bisogna ripristinarlo nel più breve tempo possibile e poi a Fano la contestazione cosa succede? perché qui siamo nel quartiere di Paleotta buche buche rattoppate con il cemento la polvere avvolge la via e anche le case guardate la via del Domenichino invasa dalla nebbia perché niente asfalto per ricoprire gli scavi per la fibra ottica non solo la strada è stata trascurata per oltre 20 anni ma nel momento in cui la careggiata è stata oggetto di un intervento si è creato un problema che ha fatto inviperire i residenti di via del Domenichino alla Paleotta il tutto è nato da alcuni lavori compiuti nei giorni scorsi nei sottoservizi da parte di Enel della Open Fiber collegata alla Telecom che hanno realizzato gli scavi quest'ultima per posare la fibra ma invece di ricoprire la trincea con il bitume in modo da renderla uniforme con il resto della carreggiata è stato usato un cemento in materiale che si è presto sbriciolato sollevando questa nume questo purtroppo è quello che succede spesso quando si rattoppano le buche e anche quelli che si occupano anche della fibra ottica eccetera in modo così giusto per dire vabbè abbiamo aperto chiudiamo alla meno peggio però poi succede questo e tutto da rifare quindi capisco i residenti della Paleotta intanto andiamo anche a Mondolfo lungomare sosta pagamento poi assumeremo un nuovo vigile ci sono delle novità per quanto riguarda il sindaco di Mondolfo la qualità a un prezzo dice il comune di Mondolfo istituirà in via sperimentale parcheggia pagamento sul lungomare a renderlo noto è stato proprio in consiglio comunale l'assessore alla viabilità Raffaele Tinti rendere il lungomare sempre più fruibile con piste ciclabili nuove rinnovamento dei punti luce riqualificazione del molo e dei muretti la neve non è finita anche se c'è il sole in questi giorni anzi gli impianti sono sempre aperti le strutture ricettive sono sempre sold out e questo è quello che accade a frontone nelle terre del Catria e di tutti gli impianti che anche noi vi raccontiamo vi abbiamo raccontato in televisione i tanti servizi che ci sono sul Catria anche nel weekend in arrivo infatti sarà tutto aperto condizioni meteo permettendo fruibile interamente il comprensorio le seggiovie Cotaline e Travarco e le relative piste poi c'è il Campo Scuola c'è la Kinderland Adventure Park il Rifugio Cotaline insomma tante cose tanti servizi che ci sono appunto sul Monte Catria ed ora andiamo a vedere la O Sport partiamo un attimo dalla Vis perché ancora insomma si parla di questo pareggio che c'è stato con il Rimini la Vis ha sfornato carattere e solidità la salvezza è possibile i due punti con Rimini e Pontedera non sono certo da buttare nel recupero con i toscani anche l'incognita dell'arbitro ma andiamo a vedere anche le notizie che riguardano l'Ital Service anche qui ci sono delle buonissime notizie due vittorie ci hanno ridato slancio il preparatore dei portieri del Rosso lo vedete qui centrato un obiettivo stagionale questa è la mia quinta stagione all'Ital Service Pesaro dice sono fortunato perché ho avuto la possibilità di lavorare sin da subito con uno staff tecnico e con dei portieri di massimo livello la VL punta la finale ma con Brescia sarà dura la Coppa Italia fa un'analisi l'allenatore Repeja che innanzitutto è strafelice per la vittoria che c'è stata con Varese che anche questa comunque era inaspettata è stato felice di aver visto tanti tifosi pesaresi nel Palalpitour di Torino e ora si prepara bene la gara hanno tempo perché insomma sia ieri che oggi saranno anche due giornate di intensi allenamenti per arrivare poi alla finale di sabato sera alle 20.45 che sarà visibile in chiaro in tv quindi ad esempio su D-Max nel canale 52 e poi c'è anche una notizia in vendita i biglietti per il mezzo di domani alla Prodi Sport se volete potete acquistare i biglietti al prezzo di 10 euro per la gara di sabato appunto di domani a Torino e poi vediamo anche qui VL occhio a Brescia signora squadra che è Brescia che ha battuto anche il Milano Costa e Arceci a tutto campo dopo la vittoria contro Varese in vista della semifinale di domani noi grandi nell'approccio e allora qui vedete le finale a Torino si disputeranno la loro partita domani alle ore 18 Tortona contro Virtus Bologna che sono le due squadre che hanno vinto ieri e poi domani ma alle 20.45 Brescia Pesaro e poi le squadre che vinceranno da queste due partite andranno alla finale di domenica alle ore 18 e qui ci sono anche dei racconti dei tifosi della VL che sono partiti a vedere la prima partita tornati all'alba non vediamo l'ora di ripartire appunto sabato hanno fatto questo lungo viaggio con il Pullman per Torino per vedere e assistere insomma la squadra la febbre VL il racconto della trasferta e c'è chi aveva indovinato persino il risultato ora si prepara l'esodo per domani e allora davvero tanti in bocca al lupo alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro adesso invece andiamo a vedere che cosa c'è su Rossini TV allora la regia ci ricorda che così come tutti i venerdì alle ore 17.30 c'è la lettura il commento il Vangelo della Domenica cura del nostro Don Marco di Giorgio che salutiamo e chiaramente ringraziamo sempre assieme a Giorgio Ricci che puntualmente registra e fa le riprese di queste letture e poi oggi alle 20.10 alle 21.10 abbiamo un altro degli approfondimenti che abbiamo realizzato alla BIT di Milano nello padiglione della regione Marche questa sera potrete vedere l'intervista a Stefano Aguzzi che è assessore regionale all'ambiente e poi alle 21.20 invece vediamo le tante iniziative che ha presentato la Confcommercio Marche Nord alla BIT di Milano gli itinerari della bellezza e non solo gli itinerari dedicati al moto turismo insomma questa sera avrete notizia di tante cose belle che ci saranno sul nostro territorio e poi vi aspettiamo per il telegiornale le 19.40 e replica alle 20.40 e questi sono sempre gli orari in cui potete vedere il nostro TG e poi ricordiamo di scaricarvi la nostra applicazione la nostra applicazione è gratis è comodissima facilissima da usare potete utilizzarla per mandarci foto video per contattare la nostra redazione per chiederci insomma un preventivo un appuntamento per fare la pubblicità alla vostra azienda insomma e per vedere chiaramente tutta la programmazione sia in podcast che in streaming quindi tutti i filmati i video i servizi del telegiornale che vi siete persi li potete vedere tramite sia il sito internet rossignitv.it ma se volete una cosa più semplice più smart sul telefono nella nostra applicazione ho detto davvero tutto carissimi amici grazie per essere stati con noi buon venerdì la rassegna stampa torna chiaramente anche domani puntuale alle 7.20 buona giornata grazie a tutti grazie a tutti buon giorno a questo giorno che si sveglia oggi con me buongiorno al latte dal caffè buongiorno a chi non c'è è il mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei è un giorno nuovo spero che sia buono anche per te grazie a tutti Grazie a tutti.